Nonostante la pandemia, nonostante la chiusura della scuola in quel triste mese di marzo 2020 e le conseguenti difficoltà nella riorganizzazione delle attività didattiche a distanza, gli studenti dell'indirizzo musicale del liceo Alfonso Gatto di Agropoli hanno saputo far valere le loro competenze artistico-musicali nella staffetta musicale per l'anno scolastico 2019-2020, da BIMED, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, storie di musica, di parole e di voci in cui gli studenti, insieme con i loro docenti e i maestri di musica, hanno composto un brano scritto e narrato una storia. Il primo premio è stato assegnato alla classe quarta, attuale quinta, per l'opera Ora nel mondo, definita una composizione originale con una narrazione emotivamente coinvolgente e un tema di significativa attualità, il rispetto e la tutela dell'ambiente. Il terzo premio è stato assegnato alla classe terza, attuale quarta, per l'opera La musica amica dell'anima, come composizione originale che rispetta e valorizza la diversità e promuove la relazione umana con i più fragili attraverso una voce narrante emotivamente intensa. Il giorno 18 dicembre 2020, nel corso di una cerimonia virtuale, gli studenti e i docenti riceveranno il loro meritato premio. È un importante riconoscimento per gli studenti e per i loro docenti, sempre impegnati, con passione e perseveranza a partecipare a nuove ed entusiasmanti esperienze formative che valorizzano le competenze degli alunni. Questo successo è il giusto premio per la capacità di adattamento alle difficoltà dimostrate dagli studenti del liceo musicale, che più di altri hanno necessità di svolgere le loro attività in presenza. Pertanto sono molto fiera del loro impegno e degli eccellenti risultati raggiunti, dichiara il dirigente scolastico Anna Vassallo. L'indirizzo musicale del liceo Alfonso Gatto garantisce agli studenti un'ottima formazione in tutte le discipline, pur valorizzando l'attitudine e la passione per la musica che è dote personale di ogni singolo alunno. Proprio in questi giorni il liceo musicale sta proponendo gli open day virtuali, consentendo ai genitori e studenti delle classi terze della scuola media di prenotarsi e partecipare ai laboratori di orientamento finalizzati a far conoscere, in maniera più approfondita, il meraviglioso universo di opportunità di questo indirizzo di studio. Per prenotarsi basta collegarsi al sito della scuola www.liceogatto.edu.it. Nella sezione orientamento in entrata si troverà il link per la prenotazione ai laboratori e tanto materiale utile per riflettere sulle proprie scelte. Inoltre i video realizzati dagli studenti del liceo musicale sono tutti visionabili sul canale YouTube della scuola.